Bella? Intelligente, bella, simpatica, sono sicuramente lei Oh no, Astrid! Vuoi stare attento, sono appena stata dal parrucchiere Ben arrivata, Kay Kay? Mi chiamo Astrid, io, ma voi chi siete e che cosa volete da me? Avevi una missione davvero semplice Prendere la ragazza più bella di tutta la scuola Che cos'è che non ti era ben chiaro stavolta? Non è... non è lei? Eppure mi sembrava carina Certo che sono carina, lo puoi dire forte Eppure mi sembrava abbastanza carina Ma non è lei, capisci? Stupido bestione Perdonami per questo errore, mio signore Ma posso riportarle indietro anche subito, se vuoi Non sarà comunque necessario Leo non lascerà mai un prigioniero nelle nostre mani Verrà qui comunque Mio padre è un avvocato famoso e per voi saranno guai E toglietemi immediatamente da questo pavimento gelido Karnak, accontenta subito la signorina Aiutala ad alzarsi e rinchiudila subito nelle segrete Bravo, Karnak, obbedisci subito Cosa? Le segrete? Non avvicinarti, mostro Mettimi subito giù, lurido bifolco La ragazza è un ostaggio molto prezioso Trattala quindi con i guanti, è chiaro? Hai sentito cosa ha detto? Sarai il mio maggiordomo personale Sei contento ora?